Dopo averlo anticipato per anni e studiato in ogni dettaglio, finalmente ho trovato qualcosa che già esiste e gli somiglia davvero tanto. È un'oasi di serenità e di libertà nel mondo travolto dalla follia. Un paese ancora intatto, con le sue foreste naturali, con la sua biodiversità, cascate e mozzafiato, vulcani spettacolari, marine incantevoli, con una densità abitativa molto bassa, con un clima costante e favorevole tutto l'anno, lontano da interessi geopolitici predatori, senza altre risorse se non la natura incontaminata e il turismo, con le frontiere aperte a tutti, senza mascherine, green pass, coprifuoco. È il paese che non avrà mai un governo militare perché da 70 anni ha rinunciato alle forze armate, con una nuova legge che favorisce i nomadi digitali, con una sanità di eccellenza, ottimi servizi, regole favorevoli al sorgere di attività commerciali e all'acquisto di una casa. Qui, in Costa Rica, Isola Felice, sorgono sei villaggi di piccole dimensioni, immersi in giardini tropicali in un contesto naturale mozzafiato, circondati nel raggio di pochi chilometri da colline, campagne, spiagge semideserte incontaminate. Se ti incanta la vita semplice in sintonia con la natura, se vuoi dare un futuro sicuro ai tuoi figli, se desideri una terza età, serena e appagante, contattami alla mail che vedi in sovrimpressione. Avrai informazioni personalizzate e riferimenti certi per organizzare il tuo espatrio e, se ancora non hai deciso per programmare una vacanza rigenerante. Pura vida.